Nome? Martina. Cognome? Cugnati. Età? 24. Città Natale? Genova. Che lavoro fai? La barista. Classica o freestyle? Classica, cerco di imparare un po' di freestyle. Perché? Beh, perché voglio vedere tutto e conoscere tutto e poi decido quale mi piace di più. Nome del locale dove lavori? Face. Cosa ti piace del tuo lavoro? Ma i clienti e magari anche l'innovazione, provare sempre cose nuove. Hobby? Hobby, la musica, i cocktail? Il nome del tuo cocktail Absolute? Absolute Jam. Perché dovresti vincere tu? No, non devo vincere, basta partecipare. Cosa vuoi dire a chi ti seguirà su web? Sono rossa, sono carina. Fai un saluto? Ciao!